La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha avviato un'inchiesta sulla lite tra vicini di casa scoppiata mercoledì pomeriggio a Sapri, protagonisti dell'episodio due militari di cui uno in pensione. I fatti si sono consumati in via Maiuri, in località Fenosa. Per futili motivi l'ex finanziere Albino Valente, originario della Calabria, 75 anni, si è scontrato con il sottofficiale della Marina Militare Napoletano di 46 anni che vive nei pressi della sua abitazione. Pare che in quel momento al più anziano dessero fastidio i rumori dei lavori in corso nell'abitazione del vicino di casa. La lite ad un certo punto è degenerata. Nel corso dello scontro l'ex finanziere ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra finendo con la testa sul tombino di ferro presente sulla strada. Soccorso è stato prima stabilizzato presso il locale ospedale e poi trasferito in agliambulanza al San Giovanni Bosco di Napoli. Valente ha riportato un grave trauma cranico ed una emorragia cerebrale. Più volte i due militari che da anni risiedono a Sapri sono arrivati allo scontro. Un aspetto questo noto all'intero quartiere e che è venuto chiaramente fuori dalle testimonianze raccolte dai militari del capitano Zitiello appena dopo la lite esplosa intorno alle 16. I carabinieri della locale stazione hanno aperto un fascicolo di inchiesta che è stato trasferito alla procura lagonegrese che coordinerà l'indagine. Il maresciallo della Marina Militare rischia una denuncia per lesioni gravissime. Provincio della Camera